Ciao Stefano, car tablet per la tua Toyota Yaris è arrivato, questa è la mascherina dedicata, questo è il car tablet, poi avrai tutti i connettori, siamo in collaudo prima di spedire, ecco il prodotto dedicato per te. Apri la radio, fai partire la musica, traccia successiva, traccia precedente, apri film, attiva la navigazione, apri youtube, torna alla pagina iniziale, chiudi lo schermo, accendi lo schermo, ovviamente poi potrai gestire tutto anche in modalità manuale, se ti servirà un aiuto per l'installazione faremo una videochiamata tramite whatsapp, la tracciabilità invece ti arriverà tramite sms, grazie.